Perfetto in tutte le sue vie Voi dunque siete perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Matteo, capitolo 5, versetto 48 L'opera di Dio è perfetta nel suo insieme perché lo è anche nei minimi dettagli. Egli ha creato i piccoli fili d'erba con la stessa cura con cui ha fatto la terra. Se aspiriamo a essere perfetti come lo è il Padre, dobbiamo essere fedeli nelle piccole cose. Tutto ciò che vale la pena di essere fatto, vale la pena di farlo bene. L'ideale di Dio per i suoi figli è molto più elevato ai più alti pensieri che l'uomo può raggiungere. Voi dunque siete perfetti, come è il Padre vostro che è nei cieli. Matteo, capitolo 5, versetto 48 Questo non è solo un comandamento, ma è anche una promessa. Il piano di redenzione prevede il nostro recupero completo dal potere di Satana. Egli ha previsto che lo Spirito Santo viene impartito ad ogni anima pentita per impedirgli di peccare. Satana esulta quando i discepoli di Cristo tentano di giustificare i loro difetti. Queste scuse conducono al peccato, ma il peccato resta inescusabile. Ogni figlio di Dio che si pente e crede può acquisire un carattere santo, una vita analoga a quella di Cristo. Come il figlio dell'uomo era perfetto nella sua vita, così i suoi seguaci devono esserlo nella loro. Egli ravviva la nostra fede in Lui per raggiungere la gloria del carattere di Dio. Un solo difetto che tolleriamo, invece di eliminarlo, ci rende imperfetti e ci preclude l'accesso al regno di Dio. Non verrà riscontrato nessun difetto nel gruppo dei credenti. Tutto ciò che vale la pena di essere fatto, vale la pena di farlo bene. Se agirete così, riceverete l'approvazione di Dio e il Cristo un giorno vi dirà Bene, sei un servo bravo e fedele. Matteo, capitolo 25, versetto 23 Grazie a tutti